Siamo a Tempera, una delle frazioni più colpite dal terremoto del 2009. Qui vicino a me c'è l'orologio della chiesa parrocchiale che è crollato a terra quella notte e che adesso è qui a testimonianza della tragedia di dieci anni fa. Qui ci sono i nomi delle otto vittime che questo paese ha pianto in quel giorno. Ferdinato Santella, presidente del centro anziani. Allora noi qui siamo nel centro storico di Tempera che tu probabilmente ricordi molto e molto bene. Ci sei nato e ci sei vissuto a lungo. Ecco qui praticamente dal 6 aprile 2009 a oggi, quindi dieci anni, non è stato ricostruito praticamente nulla. Sì, questo è vero e ci dispiace perché noi temperesi all'inizio abbiamo costituito il comitato per la ricostruzione e siamo partiti con molto entusiasmo e con l'aiuto anche dell'Università di Camerino e era stato predisposto pure il piano di ricostruzione che comprendeva anche lo sviluppo di Tempera oltre che la ricostruzione. E mi ricordo facciamo una bella manifestazione qui a Tempera a febbraio del 2012 e consegniamo gli scatoloni di quel materiale al sindaco dell'Aquila, entusiasta di questa nostra sollecitazione, di questo nostro impegno e disse che sarebbe stato il primo paese ad essere ricostruito. Purtroppo poi le cose stanno come stanno, quindi quelle promesse, quell'entusiasmo si è affievolito e qui a mio giudizio è un po' l'enticap della ricostruzione. Cioè purtroppo non è che si cura soltanto la ricostruzione, scattano interessi particolari di parte che poi trovano anche qualche sostegno a livello di gestione, di amministrazione che ritardano gli adempimenti. Di Tempera nasce sul fiume, la sua economia è stata fondata sul fiume. Il terremoto ha cancellato molto di questo paese, il centro storico l'abbiamo visto è stato totalmente cancellato. Ecco Rosanna, chiedo, tu sei presidente della Tempera Onlus che è nata dopo il sismo. Come gli abitanti di questo paese hanno cercato di tenere insieme le tradizioni, gli usi, i costumi, la propria identità? Come hanno cercato di restare comunità nonostante una dispersione che è sotto gli occhi di tutti? Perché molti abitano in queste case qui un po' in periferia, altri abitano in progetto CASE. Allora intanto direi che si è tenuto in piedi grazie alle associazioni, quindi alle varie associazioni che operano sul nostro territorio che in qualche modo hanno cercato, chi in un settore, chi in un altro, di proporre delle iniziative di carattere culturale e sociale per creare comunità. Una comunità che prima del terremoto era molto semplice a aggregare perché bastava una semplice iniziativa di piazza per avere la folla, per avere persone che aderivano e che partecipavano. Invece quindi dopo il sisma c'è stata una dispersione perché alcune persone si sono trasferite sulla costa, altre sono state spostate nei vari progetti CASE però era venuto a mancare quello che era l'elemento aggregante, quindi la piazza, il punto di incontro, il punto di ritrovo, il punto di discussione di tutti e quindi le varie associazioni hanno cercato di proporre comunque attività che riuscissero in qualche modo a riunire il paese.